Amici di Calciomercato.com, bentornati a questo nuovo appuntamento con la schedina di Fanta Calciomercato perché io e Alessandro Di Gioia, ciao Ale, ciao a tutti, cercheremo di darvi consiglio di giocare le nostre schedine per quello che è il gioco dell'estate, nell'ultima settimana, ma ha battuto ancora Alessandro 3-1 Sì, incredibile Entrambi abbiamo preso l'Ibrahimovic, però tu ne hai presi la 3-2 Sì, esatto, ho preso un giro diverso questa storia del Fanta Calciomercato rispetto alle scommesse ho preso anche Budimir e ho preso un altro che non mi ricordo, però 3-1 comunque 3-1, confermo, quindi niente, cerchiamo subito di dire quali sono le nostre schedine cercando di battere questa volta Alessandro, dai Ale iniziate Parto io allora, visto che sono campione uscente Allora, alcuni sono gli stessi della settimana scorsa, però ci sono delle cose che sono cambiate a partire da Carlos Bacca, le parole della gente sono importanti, io mi gioco il passaggio dal Milan all'Atletico Madrid visto che comunque si è parlato appunto di un possibile trasferimento in Spagna Benazia, ormai è quasi fatta dal Bayern Monaco alla Juventus, mancano solo i dettagli e Azzardun Caceres della Juve alla Roma, sappiamo che è svincolato penso che la Roma sia la squadra che più necessita difensori in questo momento visto gli infortuni, visto i trasferimenti Leandro Castano è un altro trasferimento che vi consiglio di giocare visto che è praticamente ai dettagli dalla Roma alla Samp Gilardino dal Palermo all'Empoli, anche in questo caso siamo veramente alle botte conclusive sarà sicuramente un innesto importante per la nuova squadra di Martuscello Lemina che invece è una nostra esclusiva, pensiamo che possa veramente nonostante le parole di rito andare in Germania all'Rebilipsia e invece poi c'è un azzardo da parte mia che è quello di Zienischi io credo che possa essere veramente un giocatore buono per andare a giocare in Premier nel Liverpool, il nuovo Liverpool di Klopp centrocampista di classe che può veramente intrigare in quel campionato che sarà un campionato pazzesco l'anno prossimo dopodiché chiudo con tre botti delle italiane che penso possano arrivare mi gioco un piazza al Napoli, è complicata la situazione sappiamo che ci sono diverse squadre su di lui ma sappiamo anche che i partenopei hanno bisogno di un gran colpo per dare avvio al proprio mercato e quello di piazza è un nome veramente ottimo Pavoletti dal Genoa al Milan, probabilmente con l'arrivo di Montella le sue quotazioni sono un po' scese ma io credo che possa essere il centravanti che potrebbe arrivare qualora ci fosse un addio di bacca chiaramente non solo lui però sicuramente un primo acquisto chiudo con Hector Herrera, penso che sarà una settimana profigua per il Napoli mi gioco dal porto al Napoli nonostante per ora non si sia riuscito a chiudere l'affare però penso che appunto come dicevo prima anche per l'altro colpo il Napoli abbia bisogno veramente di incrementare il suo mercato una giocata un po' più bassa di quella della settimana scorsa, 56 punti però bisogna sempre vincere e gestire infatti hai ragione, hai ragione, adesso tocca a me io questa volta ho un po' di più di te, non tanto però vediamo quelle che sono le mie io parto da Fernando, centrocampista della Sampdoria l'affare con lo Spartak Mosca se ne parla da tempo sembra di essere i titoli di coda quindi gioco questo trasferimento in Russia per il centrocampista Blucerchiato che è dato a 5 poi un altro centrocampista dell'Inter questa volta vale a dire San Nucuria, ha trovato poco spazio nell'ultimo anno il Bologna lo vuole fortemente, lo cercava il Pescara che però ha chiuso per Cristante e quindi lo do al club rosso-blu che è dato a 3 poi anch'io ho Gilardino come Alessandro all'Empoli e sembrano a fare anche questo in addirittura d'arrivo Marco Piazza, io lo do al Milan credo che l'essere protagonista di una squadra rossonera possa fare la differenza rispetto al fascino, al blasone e alla Champions League che può giocare la Juventus quindi Piazza al Milan, il talento di la Dinamo Zagabri il rosso-nero è dato a 10 poi anch'io bacca all'Atletico Madrid perché pare che l'Atletico si sta muovendo seriamente a Milano per cercare di parlare con il Milan del giocatore colombiano Caceres alla Roma, oggi il Valencia lo ha rifiutato perché non è certo delle sue condizioni fisiche quindi anch'io lo do al giallo-rossi che è dato a 3 poi Giaccherini, un po' l'uomo dell'europeo per l'Italia che sfortunatamente si è concluso contro la Germania il Torino lo vuole fortemente Mielovic sono innamorato e è dato a 5 poi Lewandowski rimane al Bayern Monaco per quanto mi riguarda è dato a 2, una quotazione bassa però credo che Ancelotti voglia ripartire dal centro avanti della Polonia Mario Rui alla Roma che questo è un affare ormai quasi fatto infatti è dato solamente a 1 e poi Azzardo con Piniglia secondo me Maurizio Piniglia può essere il vice Icardi l'Inter sta cercando un altro centro avanti che possa dare una mano all'argentino per tirare il fiato e quindi Piniglia può essere il nome giusto ricordiamo che in Italia è stato portato proprio dei nero azzurri e questa volta faccio 65 punti finalmente l'angelo che mi ricordo l'angelo che Azzardo vedrei che questa settimana vincerei tu e anche perché azzardando me l'ha andata bene esatto nelle nostre scrine normali il regolamento potete vederlo come sempre su calciomercato.com quindi ci seguite sempre sul sito che ogni settimana, ogni giorno daremo il nostro borsino e le quotazioni che salgono e scendono e quindi in bocca al lupo a tutti per la scrina del fantacalciomercato ciao